Cos'è la musichetta? Il punteggio? Come è che si metteva il gioco? E neanche te? Game power! Ti ricordi come si cambiava il gioco? C'è in giro quello che lo metteva l'uomo Se no, tiriamo e segniamo la carta Cos'è la 501? Per carità L'ha aumentato per allungere lo stesso Eh sì, 300 euro Perché dobbiamo farle tutte Cosa vuoi dire? No, c'è quello domani Queste sono quelle di recupero di ieri Due sono quelle di recupero su scuola 300 Le partite in totale di ieri che mancavano Oh, va andare Va, funziona? Proviamo Dai, fate un po' di prove Se è 300 euro Vabbè Che mi diceva che adesso è andato No, è vero Andiamo a scalare No, 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 andiamo a scalare Non lo so Ha detto Teresimo Cosa era scritto? Non era mai Dai, ah Non ho idea Scusate Scusate Eh, è il libro No, è quello di C'è domani C'è domani C'è domani C'è domani C'è domani C'è domani Ci sto dicendo Scusate Scusate C'è domani C'è domani C'è domani C'è domani Ah, ma c'è Locate Ha detto di no Dico Locate non c'è Ha perso il tavolino Invece no C'è Locate Chi ha detto che Ah, ecco Wow Ma è una prova o è già buona? È già iniziata È già iniziata E i punti? Chi è che li segna? Lui Ah, li segna lui Che bravo E nel caso che non rimane su cosa succede? Ah, basta che picchia Ah, basta che picchia Ah, basta che picchia Quindi non gli scappa Nulla Allora Vai Vai Ma i tiri totali quanti sono? Eh, ma quando finisce? Eh, quando arriviamo a zero Ah, ho capito Cosa fa il conto alla rovescia? Cos'è? 300 la partenza? 300 una 300 una Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. 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 . Wow. 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 Grazie. 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 come c'è la benzina qua preso preso si sballato due dei pauso in alto faccia con il vento quasi ma c'è il faro qua? si a un certo punto andiamo in tor perché sennò sempre tre toni ma bisogna farlo proprio giusto e questa è la versione facile ah addirittura Dani ma la tolleranza? 5 5 ma che è la cassa ma è la cassa ma è la cassa ma dai 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 che va a prenderla 2 a 0 finish no era meglio del 3 però mi ha mandato meglio del 5 quindi è un'altra partita? no non è un altro non lo ho inizio eh? non lo ho inizio non so il problema è chiuderla come ieri, non l'ha preso, guarda no l'ha rotto sei pantanato ti ha vinto a tavolino? ti ha preso? adesso si sei stato così violento che hai incastrato ti ha preso? next point ti ha preso il vento in pericolo è meglio al 16-13 che adesso c'era? dai vieni la mangiare possiamo fare? sei allenato stasera e stanotte? mi ha giocato il libro e le fraccette mi ha giocato il libro e le fraccette non vede questo mi sa che oggi ci lavora e poi passando via Quanto sei? 96 96 46 46 48 49 50 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 51 52 51 51 51 52 52 53 53 54 54 54 55 55 55 66 55 500 55 55 56 55 55 56 55 55 56 55 55 55 67 56 57 3-0 a casa. 3-0, finisce. Vai. Bravi. Buongiorno a tutti.